Il cancro è ancora nel vostro segno nel corso della mattinata, quindi quantomeno l'umore sarà buono al vostro risveglio, quindi avrete voglia di fare, anche andare al lavoro vi peserà meno del solito perché purtroppo ultimamente proprio gli impegni professionali vi stanno infastidendo, stressando, perché non riuscite a vederci chiaro in quello che sta accadendo sul posto di lavoro. Avete anche delle preoccupazioni che riguardano il denaro, che non vi fanno dormire tranquilli, ma piano piano tutti i dubbi si dissolveranno perché insomma in arrivo ci sono dei tranzidi fantastici, ad esempio Marti e Pesci il giorno 19 vi darà energia, grinta e anche occasione di dare una svolta alla vostra vita.